Qual è la scuola di Illich? Come inutile e mutilante, che produce e moltiplica i falliti e appunto i mutilati. Per lui la fiducia nella scolarizzazione non può essere innocente. Lui ricorda che a livello mondiale tre quarti dei bambini iscritti alla scuola elementare non raggiungono mai il livello che il loro paese considera il minimo di istruzione. Quindi in un certo senso Illich capovolge quello che Don Milani aveva fatto, cioè Don Milani in un certo senso è sulla linea di Illich per un certo verso, però lui prende i ragazzi espulsi dalla scuola, i bocciati, e in qualche modo li insegna e li fa diventare meglio di quelli che sono nella scuola. Però Don Milani in un certo senso lavora in un'epoca in cui i suoi ragazzi sono ricchi di cultura materiale, sanno tutto del bosco, sanno tutto delle parentelle della gente, hanno in mano, nelle mani, delle capacità, del saper fare. Quando lo Stato italiano ha preso Don Milani e ha fatto la scolarizzazione totale, mattina e sera, eccetera, eccetera, ha distrutto completamente questo retroterra. Per cui oggi non ci sono più ragazzi che hanno la cultura materiale che avevano i ragazzi Don Milani. E Illich invece fa il discorso opposto, cioè di abbandonare la scolarizzazione, perché prende come esempio dei ragazzi buttati fuori dalla scuola che invece sono riusciti nella vita. In un certo senso Raskin è complementare a Illich, anche se Illich sviluppa il suo pensiero in tutti i campi e molto dopo, perché insieme a Gandhi riabilita la passione del lavoro delle mani e la dignità del lavoro delle mani. Quindi l'undicesimo comandamento, guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte, non con il sudore della fronte degli altri. Questo è, diciamo, un po' il lavoro che fa Raskin. Cioè lui dà una grande dignità al lavoro manuale, artigianale, come opera creativa dell'uomo. Ora, però Illich ha un discorso molto più ampio. Raskin, in un certo senso, vendica il luddismo, non so se ne avete parlato del luddismo. Il periodo luddista è uno dei, come dire, una delle crocevia della nostra storia. Allora, il movimento luddista è stato un movimento senza teorici, senza filosofi dietro le spalle, ma un movimento operaio, artigiano, che quando in Inghilterra iniziava la grossa industria, quella è diventata industria capitalistica moderna, quindi con grosse macchine, il lavoro salariato per molte ore al giorno, anche 18 ore al giorno, eccetera, eccetera, è stato il movimento che, condannato da tutte le parti politiche, in cui gli operai, che poi erano operai per modo di dire, perché prima dell'industrializzazione c'era come una situazione economica perfetta in quella zona dell'Inghilterra. Si parla della zona della foresta di Sherwood, la zona di Robin Hood, no? Ecco, quindi lì è avvenuto questo movimento. In cui, in questa zona dell'Inghilterra, la situazione era perfetta perché le famiglie avevano il lavoro della tessitura, diciamo, delle stoffe, poi avevano le pecore, avevano l'orto, avevano i campi, quindi avevano tutta una vita per cui tutta la loro vita si svolgeva nel villaggio, in una dimensione comunitaria, la chiesa e poi questo lavoro. Quindi la famiglia era unita, la famiglia viveva una vita ricca, un po', diciamo, come qui a Farfa, che abita qui, che lavora qui, che... insomma, ecco. L'industria, quando comincia a nascere, prima di nascere, abolisce la comunità delle terre, quindi ci sono quelle che in Sardegna si sono chiamate le chiudende, cominciano a chiudere i campi, quindi uno non ha più l'uso dei prati per i paschi, per le gregette familiari di pecore o cose del genere. E poi inizia la costruzione di queste grosse fabbriche che fanno il panno industriale, diciamo, le stoffe inglesi famose, eccetera, eccetera. Ecco, questi movimenti di operai vanno e distruggono le macchine. Il governo inglese si mette dalla parte dei grossi capitalisti, dei padroni delle macchine, anche influenzato dalle opere di Adam Smith, che diceva che i ricchi fanno la ricchezza di tutti, eccetera, no? Ecco, questo movimento luddista è stato l'unico movimento operaio, diciamo operaio, di lavoratori, che per difendere i loro posti di lavoro e la qualità della loro vita, si sono posti il problema della qualità del progresso, e quindi che quel progresso contrastava con la vita comunitaria, con la vita familiare, con un tipo di tecnica che permetteva questo. In tempi moderni, diciamo, in America, quindi circa un secolo dopo, è nato invece il movimento, insomma, la specifica, diciamo, realizzazione cristiana, diciamo, di una cosa simile, fra un gruppo di protestanti, che leggono la Bibbia di Lutero, che sono gli Amish. Gli Amish praticamente fanno quello che, praticano quello che avrebbero voluto riuscire a praticare i luddisti inglesi. Allora lo fanno in un altro modo, hanno anche la tessitura, ma insomma la loro economia non è determinata per una parte così consistente da una cosa del genere. E loro, ogni innovazione tecnologica che introducono nella loro vita, prima la sottopongono a un'analisi sugli effetti che avrà sulla loro vita comunitaria. Quindi non è che loro sono contro lo sviluppo tecnico, anzi, in agricoltura, loro che praticamente muovono le loro macchine con i cavalli, però hanno fatto dei progressi incredibili, hanno delle macchine per battere il grano, oppure per fare il fieno, eccetera, eccetera, che noi neanche ce le sogniamo, insomma. Questa sconfitta dei luddisti ha lasciato nella cultura inglese uno strascico profondo, che è durato parecchio, forse in parte dura ancora, e Ruskin si mette, diciamo, idealmente dalla parte dei luddisti, cioè si mette, diciamo, in questo filone in cui il lavoro manuale dell'uomo è essenziale alla vita e alla felicità dell'uomo. Gandhi, nella sua lotta contro gli inglesi in India, vendica i luddisti, perché gli indiani riescono a battere il governo inglese, il governo coloniale inglese, rifiutando le stoffe inglesi. Ecco, quindi Ruskin, che è stato in un certo senso l'influenzatore principale in economia di Gandhi, perché il suo trattato a quest'ultimo, Unto the Last, è stato quello che ha ispirato poi Gandhi nella sua visione economica e sociale, in un certo senso, ecco, insieme hanno fatto questo movimento, che poi insieme, poi l'ha portato avanti Gandhi, la vendetta dei luddisti. Poi, ovviamente, il capitalismo industriale ha superato, diciamo, questa vendetta, e allora qui c'è Illich. Ora, qual è il ruolo di Illich? Parlare di Illich per me non è tanto facile, e non è tanto facile soprattutto a dei ragazzi di liceo, diciamo. Illich è stato un critico radicalissimo e profondissimo della nostra società attuale. E dici, ma alla fine cosa ci rimane? Io ho conosciuto tante persone in questa mia ricerca, perché come dicevamo con Giancarlo stamani, non è vero che gli uomini sono tutti uguali, sono tutti uguali come valore, come valore della persona. e mi piacerebbe che si cominciasse dagli indigeni. Mi piacerebbe che si considerasse, diciamo, tutti uguali anche le popolazioni che vivono direttamente nella natura, perché spesso invece sono considerati degli animali. Io, diciamo, sono vissuto nella prigione scolastica per tanti anni e lì ho trovato la mia passione. le mie passioni, che sono state una passione intellettuale. Però io facevo parte della classe dei privilegiati, che dovevano educarsi per governare, diciamo, se si guarda alle concezioni di Don Milani, eccetera. E allora, siccome lo sapevo, anche senza razionalizzarlo, e vedendo che la società, diciamo, non è che aveva dei destini molto rosei davanti, ho cercato di trovare intorno tutte quelle persone che avrebbero voluto dare un contributo. la mia Bibbia negli anni Sessanta è stato il libro degli indiani d'America, Alce Nero Parla, che è stato il mio Vecchio Testamento, no? Ecco, e quindi in questo cammino ho incontrato le personalità, le persone piuttosto straordinarie. Per esempio, Lanza del Vasto, che è stato con Gandhi e che ha costruito in Francia la sua comunità, io dicevo, beh, qual è la coerenza di Lanza del Vasto? La coerenza di Lanza del Vasto è che, nella sua teoria, la mette in pratica, ha costruito la comunità, si lavorano la terra con i cavalli, fanno il pane con le mani, fatto a legna, diciamo, vivono in maniera semplice, povere, in comunità, eccetera. Questa era la sua. Ma su Illy ci dicono, ma qual è la coerenza di Ivan? E con la sua coerenza, a quell'epoca, eravamo negli anni Settanta, in fondo si può realizzare solo attraverso le istituzioni, perché lui allora teorizzava, ma ha continuato a farlo dopo, che in una città la velocità massima delle macchine e delle biciclette doveva essere 25 km l'ora. Solo allora i mezzi di trasporto, quindi le macchine, potevano, in un certo senso, riorganizzare la società in modo umano, insomma, che non espellesse l'umanità dalle strade, dalla vita di tutti i giorni. Ma questo chi lo poteva fare? Se io mi metto ad andare a 25 km l'ora, mentre te vai a 100, come diceva anche lui, c'è una differenza di velocità molto maggiore che fra Carlo Magno è il più povero dei suoi sudditi. Poi solo dopo ho capito qual è stata la sua coerenza. e la sua coerenza è stata nell'amicizia, nella sofferenza e nella morte. Ecco, però tutto il suo pensiero è lì, in un certo senso, anche nel suo fede cristiana. Perché cos'è che Illich ha fatto? Il suo compito è stato quello di demolire le divinità del paganesimo tecnologico. Noi siamo in una società tecnologica che ha sostituito Dio, la fede in Gesù, con le divinità del paganesimo tecnologico. Lui non è stato né tecnofilo né tecnofobo, cioè aveva il telefonino e poi usava il computer, ma proponeva che cosa? La convivialità, l'amicizia, il prossimo inteso come il prossimo che mi sta accanto, le persone che incontro. e la sua fede cristiana. Sapete che nella fede cristiana, in un certo senso, il momento in cui veramente ci si affida a Dio non è il momento in cui siamo, ci crediamo chissà che, è il momento in cui non abbiamo nessuna strada avanti, in cui siamo proprio chiusi in un vicolo cieco. Ecco. Lui, in un certo senso, nella sua valida distruzione della società, dei fondamenti della società che abbiamo intorno, ci ha messo in un vicolo cieco. E qui io vorrei leggervi una cosa che ancora non è stata pubblicata, un pezzo di una cosa che ancora non è stata pubblicata, che è l'ultimo seminario che abbiamo fatto con lui, che è stato a Camaldoli nel maggio del 2002. Lui è morto il 2 dicembre del 2002. Questo seminario è stato concepito così, praticamente c'era stato prima, nel 2001, l'anno precedente, c'era stato Genova, no? E a Genova, con tutte le violenze che c'erano state, eccetera, però c'erano state due posizioni, diciamo, di cattolici, una di quelli che in qualche modo diciamo vogliono aiutare il terzo mondo, quindi le organizzazioni non governative, eccetera, eccetera, e l'altra invece di quelli più vicini a Comunione e Liberazione, quindi Ghezzo, eccetera, eccetera. E noi abbiamo fatto, non con Ivan, ma con Giuseppe Sermonti, altri amici, abbiamo fatto un documento che era in mezzo, né di qua né di là. E quindi questo documento era stato l'occasione per l'incontro di Camadoli. La prima relazione l'aveva tenuta Sermonti, Giuseppe, il biologo, quello che ha fatto la critica a Darwin, diciamo, per intenderci. Io adesso vi leggo questa citazione, insomma. Una delle ragioni che mi rendono difficile l'insegnamento oggi è che quella frase di Darwin che tu, Sermonti, mi hai letto, che non conoscevo, in un certo senso la sottoscriverei. Fatemela leggere ancora una volta. Fra qualche tempo a venire, non molto lontano se misurato in secoli, già c'è il senso moderno del probabilismo, è quasi certo che le razze umane più civili, oggi si direbbe più nord-atlantiche, più anglofone, stermineranno e sostituiranno in tutto il mondo le altre. con la dichiarazione di guerra al signore terrorista, immaginarsi che onore per un terrorista aveva una dichiarazione di guerra dalla maggiore potenza del mondo, che cosa è diventata la guerra? Dove siamo? Siamo su quella strada e lo sterminio delle altre culture. Non c'è altra soluzione dentro il concetto che tu hai così ben descritto del darwinismo o diventato parte del sapere giù giù fino a Michel Serre oggi nella logica implicita del mondo nel quale io vivo. Perché cerco di guardare la cosa con occhi di fede e di doverlo dire. Non c'è un'altra soluzione che sia un poco ragionevole dentro la logica che oggi si è confermata nel mondo che è l'eliminazione di una grande maggioranza degli esseri umani. C'è solo questa. Con questo orrore parto e quando ho guardato ieri le facce qui davanti a me mi sono detto posso per una volta parlare liberamente. Allora qui devo fare una parentesi. Ivan ha avuto uno scontro diciamo così con la chiesa alla fine degli anni sessanta perché lui aveva messo su il CIDOC che era un centro di documentazione a Quernavaca in Messico dove in teoria i preti e i come si chiamano i missionari dovevano andare a imparare prima di andare nel terzo mondo. E un certo giorno lui ha fatto una conferenza è stato chiamato eccetera e ha detto non andate più nel terzo mondo perché voi comunque anche in quelli pieni di migliori intenzioni portate la nostra civiltà la nostra cultura come se fosse superiore a quella delle altre. e da quel momento ha avuto delle grosse difficoltà finché è stato chiamato al Sant'Ufficio allora e ha avuto una specie di processo dopo il quale e lui mi ha detto una volta che credo in quell'occasione ha incontrato Paolo VI il quale gli ha detto che avrebbe fatto molto male ai cattolici col suo pensiero ha fatto un articolo sul New York Times in cui lui rinunciava a tutte le sue prerogative di prete quindi rinunziava alla congo rinunziava a tutto quello che rinunziava anche a dir messa da quel momento e da quel momento lui ha sempre parlato non ai cattolici ma ha parlato fuori extramenia cioè in partibus infidelium quindi quando qui dice posso per una volta parlare liberamente si è accorto che era invece fra cattolici adesso parlo cerco di parlare ancora con un'affermazione per non doverci tornare sopra spero di parlare come figlio della chiesa non parlo come teologo essere teologo nella santa chiesa è un mandato non è una competenza io non ho questo mandato ho studiato la mia teologia sono stato come teologo nel secondo concilio vaticano il teologo che ogni giorno si incontrava con i quattro cardinali presidenti ho rinunciato a questo incarico in mezzo a una sessione quando la santa chiesa non poteva decidersi a dire che produrre la bomba atomica è un peccato orribile come produrre i preservativi di gomma ho detto non posso continuare qui facendo un piccolo disegno malfatto non disegno bene da un lato un pene semiplacido con un preservativo dall'altro una bomba un missile che parte e di sotto una riga est ne contra natura per far capire semplicemente la mia domanda ma questo non toglie che quello che avrò da dire sulla posizione della chiesa nella storia dell'occidente come elemento essenziale di quello che chiamiamo oggi l'occidente è detto da un figlio triste e fedele che vuole essere fedele e che vede nelle macchie della sua madre la chiesa solamente una ragione per credere più fortemente detto questo certamente propongo temi di investigazione non dottrine il primo mi attengo alla sequenza delle idee esposte da Giuseppe Sermonti da dove viene in questo occidente nella sua unicità nella sua incomparabilità l'idea del progresso dello sviluppo e da dove viene la chiamata a tutti di progredire se non nel progresso della santità nella santificazione noi siamo battezzati per santificarci nella vita per morire migliori con l'aiuto di Dio ricettori della grazia e per questo abbiamo una rivelazione rivelazione vuol dire un sapere che non avremmo potuto avere senza l'intervento del figlio di Dio che si è fatto ometto come il tuo Giacomo e poi uomo crocifisso per questo crediamo nella necessità di una fonte del sapere non siamo figli della natura ma figli della natura dopo l'incarnazione l'idea di un sapere obbligatorio per arrivare alla nostra destinazione nella santificazione è una concezione che non esiste nelle religioni esiste solamente per quanto io possa vedere in quella non religione della quale io sono parte perché dico non religione perché mi sento figlio discendente dei martiri che la legge romana che è una legge straordinaria ha assicurato che questi uomini che sono mandati ad leones sono passati attraverso un giudizio nel quale sono stati dichiarati per propria confessione omines irreligiosi non avevano dei e sapevano che la loro fede non era in un dio decentemente funzionante che si poteva mettere in un pantheon ma che era Dominus Deorum il signore di tutti gli dei senza negare le società venere di Marte o di quello che volete perché io gli avevo domandato di affrontare il tema del cristiano della tecnica dell'uso cristiano della tecnica allora sì mi sono occupato della tecnica ma è soltanto negli ultimi vent'anni che ho capito che quella tecnica che io prima chiamavo anticonviviale è inevitabilmente antidemocratica dominata cioè da testimoni non oculari testimoni per sentito dire ma è lei che detta le regole amministrative che poi ciecamente approvano il politico o il Papa la mia preoccupazione andava in questa direzione oggi credo di poter sempre di più dire dal momento che una tecnica si promuove si utilizza per un'organizzazione di servizi per la depersonalizzazione di quell'atto insegnatoci per rivelazione come possibile dal Vangelo cioè l'atto di carità allora immediatamente devo domandarmi voglio parteciparvi o no ecco cioè praticamente lui diceva questo che accanto a questo sistema di servizi che è reso possibile da un certo tipo di tecnica c'è una sorta di ordine antidemocratico che si impone a noi che noi accettiamo ben volentieri perché non ci sembra neanche un comando e in un certo senso in questo sviluppa l'idea di Marx che la tecnica è un comando materializzato e quindi dentro la tecnica c'è un comando nel modo che essa funziona e questo comando cambia la nostra vita cambia le nostre relazioni e ci rende obbedienti ci diciamo ci blocca certe facoltà ci taglia certi momenti della fantasia no ecco e ci rende ci immette in un sistema ecco lui in tutte le sue ricerche in ogni campo pensiamo al tema della morte o dell'eutanasia ogni volta ci riporta al prima cioè ci riporta al momento in cui dice quando c'era cioè Ippocrate aveva insegnato che c'è una facis ipocratica il medico deve imparare a capire quando è il momento che quel paziente da diventare paziente diventa un morente e quando è il morente lui si deve allontanare e lasciare che solo gli angeli vengono a letto di quel malato la sua è una posizione più difficile ma che dice no un momento fermatevi prima grazie a tutti Grazie a tutti